andiamo a fare questo giretto qua andiamo a fare questo giretto non la buttiamo via dai questa casetta anche questo panorama bello qua con lì dove non andremo già ormai è novembre non ci con la bici nuova qua eugenio siamo carichi? ricordi le nostre cesta prego prego la mamma io già sono andato a pacco la miseria la devo confiare sta molla attenzione le braghe momenti contenuti importanti per la gopro qui buono brazzers braggers quindi dove spostiamo poi arrivati in fondo? al bar no che paese? a lungostagno, lungomoso e dov'è dopo Pratisarco? ma tu vai dai vai intanto che tanto che ne vuole un bel poppin che ci arriviamo così mi mentalizzo su quanto ci vorrò poi per far fare a lontano sì che sono anche bagnati ti impianti se vai veloce bello bello attenzione vai vai c'è questo passo bene questo sentiero mi piace in realtà non è proprio non affrontabile cioè più o meno il buco il buco attenzione passa va nel buco lui mangia tutto ora full mangia tutto c'è bellissimo fortuna che sto asciutto sento qua se non ho bagnato controllate la sentina eh qua bisogna controllare che ci si diverte troppo più che altro hop hop attenzione c'è il trocco attenzione c'è attenzione c'è ah bello qua un bel flow serviva attenzione ah bello qua ah ma qua mi è portato a fare cross country che è? aspetala qua ah no attenzione scende dritto per dritto punto di massima pendenza lui ah questo si è cosa c'è cosa c'è? prendo veloce ti lasciano andare non devi frenare illustraci maestro ma è quasi a sinistra passerei bravo spero non toccare qualunque cosa possibile immaginabile ah no ma è facile vai vai eh tranquilla ragazzi pensavo per essere da sopra sembra peggio youh who vale ale scusi si ha il bike se permette ah 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 ZZZZZZZZZZZZ Motore Bosch Motore Bosch, la furtina EWA comunque niente da fare c'è la full a parte il ramo dicevo la full va da sola lo sono latticizzare dietro che c'è la camera poi se latticizzo sicuramente entra anche meglio e seppure mettessi delle gomme normototate sta roba di serie che ci sta adesso wow che bello qua grande ma c'era un buco lì è caduto no 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 sono proprio preso in piena è andata porca merda sono distrutto eh spacca si attento lì che è molto ahia ok hop hop salve hop la grazie si tocca lì no forse se passa esterno sai che so perché così anche davide ok vado è difficile non è non è facile fatto grande davide non so se il motivo è il manubrio troppo distante meglio però tu sei molto alto il manubrio secondo me non è troppo distante quello per te ma l'hai tagliato un pelo quando l'hai comprato no fra voi mangio una barretta no nooo lo lascio aperto me ne foto degli spifferi come rompere un cancello è una bici in un in due semplici mosse in una semplice mosse in una semplice mosse vediamo come andare senza due raggi oh dio ci siamo hop hop non so dove cavolo devo andare forse non era qua forse non era qua quasi ho questa sensazione di aver sbagliato qualcosa buongiorno ciao si incastra qui riesci da dove scusa sali e poi scendi lì e poi scendi lì c'è una radice grossa qua in mezzo ai coglioni qui o fai un no stress come uno di quelli seri se riesci ad alzare la gomma lì riesci secondo me dai cazzo voglio anche provi qua invece voglio provare? no vabbè dai per me quello è quasi chiuso il passaggio qua devi prendi velocità e salta più dritto arrivi fino a qui ma io non sono bravo per esaltarti si si ho capito si ma io non sono capace di assaltare quindi no questo sicuramente indipendentemente arrivi a Bolzano da qua in un colpo so si si fa si fa l'unica paura che c'aveva è se toccavo se sbattero da qualche parte come va? vedi la partita della ruota ma che bella luce qua che c'è spettacolare wow minchia che vista caga minchia siamo lontanissimi da Bolzano qua te ne sei accorta adesso che spettacolo minchia 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 no no eh bello ma che fiori che c'ha qua è ma fa anche la fresco questo c'ha ma che sbigare non male minchia qua c'è della droga che si sta sciogliendo cazzo c'ha gammato due eeeh wow come fitto forno questo è quello stile che a me non piace tanto perché è solo andare dritto pazzesco che mi hanno fatto una strada questa cioè ma chi è che è saltato in mente di fare un sentiero qua ahahahahah non ce la fate più a non sape niente più, bella è pieno grazie figo l'unico 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 Grazie a tutti.